Il grande viaggio insieme, l'evento ideato nel weekend dalla Conad in città, in particolare in Piazza d'Italia, con musica, spettacolo e sport, ma anche riflessioni sulla situazione socio-economica del territorio con un'indagine sociologica, domenica mattina alle 11 ha fatto tappa a Casa Serena con l'emozionante spettacolo C'è musica in città. Esibirsi i solisti del sesto armonico diretto dal famoso maestro Beppe Vessicchio, che hanno offerto agli ospiti dell'Istituto per Anziani un'ora di spensieratezza. Presente anche il sindaco Nicola Sanna, che continua a onorare i numerosi impegni istituzionali, nonostante la grave crisi che in queste ore sta interessando Palazzo Ducale. Il grande viaggio insieme è arrivato a Sassari e giunto alla terza edizione, ed è stata scelta a Sassari come unica tappa sarda dalle otto previste su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo, dicono i dirigenti della Conad, è quello di stare in mezzo alle persone, ascoltarne i bisogni, riscoprire i valori delle comunità attraverso iniziative fatte di buon cibo, musica e sport, ma anche riflessioni e incontri come quello che si è svolto domenica mattina con gli anziani ospiti di Casa Serena per dedicare loro una mattinata di gioia e partecipazione.